L'orana scelta L'orana scelta No Ma Che fai? Ma Quanta pizza è un minuto? Io le voglio Perti Io voglio Perti Perti Io voglio Perti Io voglio Perti Sì Da una tattitata Non me fa bruci Da una tattitata Una tattitata Una tattitata Mi raccomando Sì Da una tattitata Otto Sì Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.